Oggi una direzione che confermerà il lavoro, il percorso fino adesso avviato, le riforme che servono al Paese sia sotto il profilo istituzionale che sotto il profilo del rilancio dell'economia. Una discussione aperta come sempre avviene nel Partito Democratico, però l'indirizzo delle riforme è chiaro e tutto il partito la sosterrà.